Dichiaro chiusa la votazione. Dichiaro chiusa la votazione. Sì, la Camera respinge. A questo punto l'1.807 Garofalo è stato ritirato, qui passiamo all'1.115 De Rosa, ce l'invito a ritiro per il contrario. Onorevole De Rosa, prego. Grazie, Presidente. Qui chiediamo praticamente nella progettazione all'interno degli appalti di inserire la promozione anche del recupero degli edifici esistenti, degli edifici abbandonati e delle aree dismesse. Questo si collegherebbe a una legge sul consumo di suolo se mai l'avressimo discussa in quest'Aula. Ne approfitto appunto per ricordare che l'iter di questa legge è stato affossato per l'ennesima volta. Con questa legge avremmo spinto per il recupero, il riuso, il recupero delle aree dismesse e quindi per meno devastazione sul nostro territorio, dovuta alle grandi opere ma dovuta anche ai piccoli appalti. Questa legge è stata utilizzata proprio dal Premier per farsi un bello spot di averla incardinata durante la chiusura di Expo per poi farla sparire dai calendari della Camera. Come al solito, e fa tristezza per gli italiani, siete legati alla distruzione del territorio, alla cementificazione selvaggia. D'altra parte nel PD molti cementificatori sono presenti tra le fila. È triste perché non vi rendete conto di come, invece, andando a riqualificare, recuperare e rigenerare le nostre città, creeremmo posti di lavoro. Creeremmo veramente quei posti di lavoro che possono portare un po' più benessere al nostro Paese, invece che distruggere, devastare e far chiudere le aziende agricole di quei territori dove andate a costruire senza ritegno le vostre grandi opere. La ringrazio. Onorevole Borghi, prego. Al netto della propaganda vorrei segnalare a lei, signor Presidente, all'Aula che le commissioni competenti hanno completato l'esame del provvedimento richiamato in precedenza e che verrà iscritto all'ordine del giorno quando lo riterrà la conferenza di Capigruppo. Quindi mi sembra del tutto improprio introdurre un'argomentazione di questa natura che non c'entra nulla né nella sostanza né nella forma. Da ultimo consegnerei al collega di ricordare anche i suoi interventi nella circostanza in modo tale che si possa smentire da solo. Grazie. La ringrazio. Se non ci sono altri interventi dichiaro aperta la votazione e parere contrario di Commissione e Governo. Costantino. Capo di casa. Berlinghieri.